Nessun sogno è irrealizzabile da quando c'è Maradona. E questa volta il sogno è battere l'invincibile Juventus. Lo chiede tutta la città. Quando inizia la partita, il San Paolo rugisce di passione e chiama i suoi eroi. Maradona risponde con una delle sue magie. E' una punizione a due che non poteva carciare direttamente in posta. Siamo stati lì per un minuto, forse un paio di minuti a parlottare con l'arbitro per evidenziare che lì non c'era distanza, che la barriera stava a cinque metri. E dopo un po' disse vabbè va, tiro lo stesso, tanto gli faccio gol comunque. Quando vediamo quella palla che si alzò a cinque metri sopra la barriera e Taconi che si stava rompendo la testa a cinque metri sopra la barriera. Per me quello è stato uno dei più bei gol che ho visto da quando gioco a calcio.